Welcome to Second Reality Live the life you have always dreamed Be the person you always wanted to be Welcome to your new life Chats, benvenuti in un nuovo episodio di Sweet Games E oggi siamo, come potete vedere, su Pokemon Gioco di carte collezionabili online GCC, vabbè, Pokemon online, chi cazzo Che è il gioco di carte di Pokemon Allora, questo episodio non è un episodio di una serie Può darsi, ma dipende da voi Nel senso che questa è una prova per vedere, sì Una prova Tutto per tutto, per vedere se piace a me Per vedere se piace a voi Per vedere com'è il gioco, eccetera, eccetera, eccetera Sto guardando video online di persone, anche italiane Che fanno questo gioco e mi sta piacendo veramente tantissimo Soprattutto uno in particolare Ma sono dettagli E di fatti mi ha fatto venire voglia un po' di giocare a questo gioco Anche perché guardando i suoi video si capisce abbastanza bene come si gioca Perché questo gioco è molto semplice Come tecniche è più complicato fare i mazzi Più che giocarlo Però sono dettagli Allora I miei mazzi sono quelli base Perché ho appena cominciato Base, base, base Ho il giallo base Che fa schifo al cazzo E il potenza mentale Che anche questa fa schifo al cazzo Ma diciamo di sì Ho solo due mazzi Quindi bene In ogni caso Voglio vedere se vi può interessare E se vi interessa Aiutatemi a giocare a questo gioco Perché io non sono proprio in grado In ogni caso La cosa divertente di questo Pokémon È che si può giocare anche in vacanza Perché è Se voi giocate sul computer Potete giocare sull'iPad Potete giocare su Android Potete giocare su Mac E avere sempre lo stesso account Su tutti i dispositivi Yu-Gi-Oh! Svegliati Quando farai un gioco del genere nella vita? Perché lo voglio Comunque E non è pay to win Perché io non posso andare a prendere monete A parte i cosi torneo Però i cosi torneo non mi interessano realmente Quindi capite bene Adesso è il mio partito al mondo Intanto qua fa un po' di casino A parte questo Sti gran cazzi Perché abbiamo Le sfide giornaliere Però sono ancora a livello 0 Non passo di livello Perché mi sa che devo fare le sfide giornaliere Ma Quale è lunga la storia E quindi Niente Ho Una bella notizia per voi Come vedete al titolo Questo episodio avrà anche uno spacchettamento finale Quindi andiamo a giocare subito E tranquilli No non faccio la campagna Tranquilli tranquilli Andiamo a giocare direttamente online Sia che perdiamo Sia che vinciamo Perché Va bene Sfida giocatore Assolutamente E niente Allora Io ho sbloccato I mazzi base Verde rosso Giallo Blu E questo qua E poi ho comprato Luce psichica Perché pensavo fosse un bel mazzo Ma in realtà Fa schifo il cazzo Ok forse non lo so giocare Però su tre partiti che ho fatto Le ho persi Tutte tre Quindi Bene Lo testerò ancora Ma Mi sa che ho fatto una cagata E sapevo che dovevo prendere Vivern Con Jengar E la Vivern Ma fa culo Comunque Che bello Siamo contro il mazzo Psico Che se ha Glade Mi fa un culo A strisce Però noi abbiamo il mazzo Acqua con Frogadir E sperando che abbia Carte buone Sicuramente no Perché sto registrando E poi Ho una sfiga Terribile addosso Perderò sicuro Bene Cominciamo molto bene Abbiamo Pampur E Magikarp Non dico che sia male Però Però Diciamo che potrei Iniziare a fare una cosa Del genere Gli buttiamo Pampur Come primo Pokemon Buttiamo Magikarp E lo carichiamo Per arrivare a Alla mossa finale Di Geridos Che fa una Botta di danni Pazzesca E quindi Capite Quello Qual è la mia intenzione Praticamente Uh Aralz Quindi vuole attaccare Però mi sa che l'ha messo in panchina Perché non ha Glade O forse ce l'ha E vuole caricarlo Come voglio fare io Con Magikarp Quindi sarà Un po' Un disastro Però ok Abbiamo anche lui Non male Utilizziamo Pokéfan Club Diciamo anche di sì Anche se mi dava Pokémon base Ma prendiamoci Froki e Cursula Perché Froki e Cursula Capirete dopo Non li metto Non li gioco Li tengo in mano Però Vediamo Energia Gliela diamo Come ho detto A Magikarp E facciamo Fine turno Secondo me Adesso che ha visto Che ho iniziato a dare Energia a Magikarp Sa che ho Geridos in mano Quindi Credo che abbia già capito Le mie intenzioni Quindi vediamo Pokéfan Club Per mettersi Pokémon Anche lui la usa E prende Mi sa Brutte carte Da quello che ho capito Il signor De Psycho S1 Che è un vecchio modello Del Samsung Cosa fai? Ah Mi tanque Furfrur Brutto stronzo Vuoi cominciare subito A rompere le palle Vedo Interessante teoria Finché non ti uccido Skitty A meno che Non lo cambi Non penso Possa fare molto Infatti Inizio a rompere i coglioni Rintocco cosa? Cosa fa? Cora Ciascuno del Pokémon 10 Non male Buona Subball Così Così Subball Allora O prendiamo lei E carichiamo Sinipur Che non è male Però penso che Continuo A fare La mia storia Prendo Frogadir Questa cosa non dovrebbe Mostrarla Al coso Infatti Ah mostra Lo fanculo Glielo ho fatto mostrare Quindi sa che ho Froki in mano Non mettiamo Froki E mettiamo A Magikarp ancora E posso farlo Evolvere Ma non mi interessa Voglio che lui Inizia ad attaccare Sperando che mi peschi Le energie Perché se no Non posso fare un cazzo Nella vita Perché io ho sempre Quella sfiga Che non pesco mai Le energie Pesco solo mostri O carte inutili O almeno Datemi carte Strumento Tipo pesca tre carte O fai cose Capite Il senso Bene Comincia già a fracassare Le palle Perfetto Col suo gatto Dei miei coglioni E la Megaball La Megaball La userà sicuramente Per prendere L'evoluzione di Ralz No Wubat Perché Wubat Ah perché può prendere Solo un pokemon base Adesso che ci penso No Senta carte in avanzo Puoi mostrare Raggiungere le carte Che hai in mano Ah ok Ah ok Perché hai preso Wubat Non lo so Però già Iniziare un pericoglio Croce Perfetto Brutta troia Cosa fa Non c'è un momento Il pokemon Ti va bene Che culo Perfetto Carichiamo Magikar Carichiamo Geridos Carichiamo Fogadir Quindi abbiamo Da una parte Un po' di fortuna Nel senso che Il prossimo Episodio Il prossimo Turno Se mi capita Un'energia E mi distrugge Pampur Possiamo buttare Geridos Se no Ci tocchiamo al cazzo Perché se no Mi capita l'energia Sono fottuto Cioè diciamo Così Così Ha deciso di ritirarsi Perché ha già visto Che avevo Geridos In mano Perfetto Stronzo di una ruota Perché mi dai Quelli già presi Cioè ho la ruota Praticamente Vuota Però 5 monetine Dai Non è male Non è male Primo duello Vinto Vinto primo duello Non male Veramente Ci ha dato 100 punti Fra poco Guadagnerò Altre 15 Altre 2 Eticket di merda Che non mi servono a niente Che porca puttana Tutte le volte Apro tutte le finestre del mondo Perché devo cliccare come un coglione E a parte questo Voglio arrivare a questo A questo qua A questo qua Decisamente Non è andata male Ma facciamo un altro duello Andiamo a spacchettare Andiamo a spacchettare Perché Lo spacchettamento Lo spacchetto Lo spacchettamento Allora Prodotti Allora Ho trovato un paio di codici a casa E ho spacchettato un po' di cose E poi ho dei bustini All premium Vorrei aprire questo qui Che è quello di Dragon Exalted Serie bianca busta Espansione Proviamo Stirpe dei draghi Vediamo 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 Attenzione Attenzione A cosa possiamo trovare Tutte nuove Perché non l'ho mai spacchettato Tranne questo E doppia carte premio Attenzione Sigiliff Ok E Non dico nulla Non dico nulla Perché non dico nulla Mazzi ma Perché Perché No 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 Collezione Collezione Torni Prodo Ah qua Allora abbiamo Origine antiche E plasma storm Proviamo plasma storm Voglio vedere Che è un regano plasma Vediamo cosa Possiamo trovare qui Dai dai Voglio qualcosa di bello Qualcosa di carino Plasma storm Apriamo il pacchetto E troviamo Clic 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 Uh se qua c'è il team plasma Carta Una carta del team plasma Presente dalle carte che hai in mano Se puoi scartare Non puoi Pesco quattro carte Interessante Attenzione Una carta Magnezone Wow Sono contento Wow Ma fammi almeno Cioè ho perso Un coso Fammi almeno Essere Dessere incrociati Voglio provare l'ultima espansione In realtà non è l'ultima Ma Proviamola Proviamola Ultimo pacchetto Questo è l'ultimo Non ho altri pacchetti Per le prossime volte Pacchetto Abbiamo trovato Binocolo Ma porca puttana Alla che zamax Alla che zamax Finisce così Finisce così Il video Per Dopo questa basta Perché il mio culo È tornato Fortunatamente Basta Basta Sinceramente Col culo tornato Vorrei aprirne un'altra Proviamo altri furia e vola Ultimo Ultimo Veramente Furia e vola Avanti Che ha portato fortuna Anche se secondo me Questo qua Non porterà mai fortuna Alla che zamax Abbiamo trovato Buona Troviamo Gliscor Perfetto Vittimi Dai Dai Ci sta Vittimi Ci sta Non è Comunque Per questo video è tutto Nel prossimo È durato tantissimo Mi interessa un cazzo In ogni caso Per questo video è tutto Nel prossimo Alla che zamax Basta questo Lei dà lo studio Alla che c'è Alla che c'è